Starvai Raptor Evolution 2022 Un discendente verso un braccio abbastanza tecnico ma gioca molto bene soprattutto nei pressi della rete dove dimostra tanta potenza e soprattutto un bel feeling molto connesso alla palla. Tra le sue caratteristiche inoltre vi sono il controllo e lo spin grazie a questa superficie full plane effect da parte di Starvai che tiene veramente molto forte sulla palla e aiuta quindi a giocare in maniera aggressiva con tanta fiducia. Dal punto di vista tecnico parliamo di una palla realizzata interamente in carbonio 3k quindi sia per quanto riguarda il tubolare sia per quanto riguarda le facce dove vi è un doppio piano di carbonio sempre 3k appunto con un nucleo soft con eva classificazione 30 quindi leva più morbida disponibile nella gamma Starvai ma compensata dal fatto che vi sia appunto un doppio piano di carbonio sulle facce. Per questo la racchetta ha un tocco comunque solido e una buona sensibilità all'impatto. I suoi pesi sono abbastanza alti perché la troviamo spesso intorno ai 370 grammi ma vanno teoricamente dai 365 ai 380.